Citroën guarda il passato facendoci rivivere il mito della 2 cavalli, mostrando alla stampa l'esemplare unico della 2 cavalli Soleil, pensata all'inizio degli anni 80 da Serge Gavèn. Un'idea fortemente innovativa, ispirata da un grande passato e da una profonda tradizione. Il concetto, almeno inizialmente, potrebbe stridere, ma trattandosi del marchio Citroën non è il caso di sorprendersi più di tanto. Al centro della scena ritorna una delle più classiche icone del mondo dell'automobile, la 2 cavalli. L'ultimo esemplare di questo modello venne prodotto il 27 luglio del 1990. In effetti, la catena di montaggio della 2 cavalli non si riattiverà. L'iniziativa della casa francese è infatti dedicata ad un esemplare unico, frutto dell'estro creativo dell'artista e designer francese Serge Gavèn, che fu già l'ideatore delle serie speciali della 2 cavalli Spot e Charleston. Tra i progetti rimasti nel cassetto venera uno al quale Gavèn teneva particolarmente, la 2 cavalli Soleil. Oggi, a distanza di molti anni, la stessa 2 cavalli Soleil vede la luce grazie al contributo di Citroën Italia. I temi che hanno ispirato questa versione della 2 cavalli sono il cielo, il mare, il sole e la gioia di vivere. Di qui la scelta di Gavèn di utilizzare come colori il bianco e il giallo. Bianchi sono la scocca, i paraurti e i cerchi delle ruote. Gialli, invece, i parafanghi, il cofano posteriore e la capote. Sulle portiere spiccano un cappello da marinaio e una pipa. Sul bagagliaio, invece, un salvagente. La base di partenza per il restauro, effettuato nell'atelier 2 cavalli di Vareggio, vicino a Milano, dall'esperto in materia Guido Wilhelm, è stata una malconcia 2 cavalli Club, riportata a nuova vita dopo un accurato lavoro sulle lamiere, sulle saldature e su tutte le parti meccaniche, con particolare attenzione per il motore. Ogni intervento è stato eseguito nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai manuali e dai tecnici dell'epoca, per arrivare infine alla colorazione ideata da Serge Ghevenne. Come marchio Citroen abbiamo questo grande patrimonio storico che cerchiamo di utilizzare al meglio per mettere in evidenza i valori, i valori che erano presenti allora e sono presenti ancora oggi nelle vetture che produciamo. Quindi il valore del benessere, del comfort, della gioia di vivere che esprime 2 cavalli, il senso di libertà. Cerchiamo di riavere questi valori attraverso i prodotti nuovi e un esempio che abbiamo recente, la nostra ultima novità è la C4 Cactus che raccoglie l'eredità, se vogliamo, di questi valori in chiave ovviamente moderna. Come già anticipato, la Citroen 2 cavalli Soleil resterà un unico esemplare, ma non sarà la sola iniziativa dedicata dalla filiale italiana del marchio francese ai propri modelli storici. Altri progetti interessanti sono infatti in virtù ad arrivo.